Non ti preoccupare, nessuno ti vede, dammi un bacio, un bacetto. Ah, che sei bel già, bella sei. Sì, aspetta, ora, mettiti là, sì, spostati. Scusate, non ci volevo far vedere, che ci posso fare? Sentite, se dovete dirmi qualche cosa, se volete chiedermi qualche argomento particolare, potete scriverlo qui sotto, sì, su YouTube, va bene? Bene, statevi bene, ciao. Scrivete pure domande, perplessità, dubbi, tutto quello che vi passa in mente. Se volete che vi saluti, chissaccio, magari Carmelo saluta Pippo, Giovannina saluta Teresa, Pippo saluta Teresa. Oppure magari Pippo può salutare a Teresa senza camo, diciamo, mia. Insomma, scrivetemi, ciao. Statevi bene, ciao. Sì, ti vuoi far vedere? S'affronta. Sì, ti vuoi far vedere?